La giunta regionale ha approvato la vendita dell'ex ospizio marino di Giulianova, una struttura storica ma in rovina, situata sul lungomare Zara. La decisione, presa durante l'ultimo riunione e rinunciata dalla giunta stessa, permette alla ASD di Teramo di cambiare la destinazione d'uso dell'edificio da sanitario a commerciale. L'annuncio segue la proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veri che ha rivelato la non utilità attuale dell'immobile e ha dato il via libera alla sua vendita. Innanzitutto siamo riusciti a liberarlo prima di tutto, è fondamentale con l'apertura di Bellocchio siamo riusciti a portarli tutti i servizi che prima erano allocati presso l'ospizio marino, oramai faticendo non più idoneo sia a livello strutturale che logistico perché oramai cominciava ad avere problemi di diversa natura per allocarci le attività sanitarie. In precedenza il direttore generale dell'ASD di Teramo Maurizio Di Giosì e il sindaco di Giulianova Ivan Costantini avevano già espresso il desiderio di vendere l'edificio tramite un'asta con l'intento di reinvestire il ricavato, stimato tra i 5 e 6 milioni di euro nelle strutture sanitarie locali. Nel momento in cui l'immobile era libero abbiamo stabilito appunto che lo si poteva dismettere per far sì che con la realizzazione della vendita la si può utilizzare appunto per investimenti lì al presidio ospedale di Giulianova. Dovrebbe essere una somma cospigua che potrebbe consentirci appunto di dare un riassetto abbastanza completo a tutta la struttura sanitaria giugliese. Sono due immobili giugliesi di notevole prestigio che noi metteremo all'asta. Tempistiche secondo lei? Adesso non posso fare previsioni, ecco bisogna fare tutta la parte litter procedurale che va dalla valorizzazione, dalla quantificazione del valore dell'immobile, dopodiché tutte le procedure che vanno messe appunto per far sì che si possa aprire l'asta per la vendita.